Il principe Ferri e Meghan Markle hanno pubblicato un nuovo video dalla loro organizzazione benefica Archival Foundation, che arriva solo poche ore dopo che la principessa Kate ha condiviso un video di se stessa in una banca per bambini con i suoi tre figli. Sembra che Meghan Markle abbia fatto una sottile scavata ai doveri reali di Kate Middleton in un nuovo video dell'Archival Foundation. Il video, che mostra, l'impatto, globale di Archival per il 2023, è stato pubblicato poche ore dopo che la principessa Kate, aveva pubblicato un video di se stessa e dei suoi tre figli in una baby bank. Nel video di Kate, la si vede selezionare donazioni e imballare scatole per i bambini bisognosi questo Natale. D'altra parte, Meghan, viene mostrata nel video di Archival, mentre abbraccia numerose persone e compie buone azioni, il tutto mentre appare incredibilmente glamour. La clip di un minuto evidenzia le persone e le cause che Archival ha sostenuto nell'ultimo anno. In genere, la fondazione Archival pubblica tali video nel nuovo anno, mentre quelli precedenti vengono caricati a gennaio. Ciò ha scatenato speculazioni online sul fatto che i tempi siano stati anticipati per oscurare il buon lavoro mostrato dai gallesi alla baby bank di Winson. Un utente dei social media ha reagito al video, scrivendo, cerco disperatamente attenzione.